buona sera ben ritrovati se il tuo puntata dedicata al match race che la forma diciamo di regata più semplice da capire anche per chi di vela non sa niente è quella della Coppa America con due barche una vince l'altra perde e dedicata anche alla vela femminile perché cosa purtroppo un po' rara come abbiamo sottolineato due volte sia con Francesca Klappic che con Giulia Conti donne protagoniste nella vela non sono mai abbastanza anzi sono poche quindi diamo il benvenuto a Irene Bezzi velista di lungo corso ciao Irene che come scopriremo nel corso dell'intervista ha in questo momento assunto diciamo un ruolo importante nel match race perché si occupa è la direttrice la grande capa di un corso di match race che si fa eh all'univela eh sul lago di Garda ma cominciamo dallo scoprire che velista è Irene Bezzi velista romagnola ravennate quindi insomma comunque zona di vela particolarmente eh importante area diciamo di di grandi velisti e di grandi protagonisti della Coppa America da Cino Ricci a Rolgabini e sostanzialmente a Maxirena. Esattamente sì sì come è cominciato io sono infatti cresciuta nell'ambito romagnolo al presso il circolo velico ravennate da bambina con corsi di vela quando avevo 9-10 anni e poi in età più adulta quando ho intrapreso la strada della classe olimpica e mi sono allontanata per partecipare appunto ai circuiti di classe olimpica ai raduni federali e quindi ho intrapreso la mia strada lontano dalla Romagna e per poi a seguito di questa strada olimpica nelle classe olimpiche ho poi iniziato a frequentare i campi di in particolare i campi di regatta di One Design dove tutti sapete che sono molte le presenze di professionisti equipaggi professionisti e questo mi ha dato una grande possibilità possibilità di crescita perché l'esperienza da che ho potuto dalla quale ho potuto attingere grazie alla forte presenza di milisti professionisti in particolare uomini anzi diciamo 90 99 per cento uomini poi insomma questo mi ha dato modo di crescere tantissimo e di fare veramente una grande differenza poi quando sono tornata sulle acque di casa e mi sono anche presentata come allenatore quindi è stato un forte bagaglio che ho acquisito che tuttora continuo a sviluppare anche con la nuova formazione che sto acquisendo anche allineata alla federazione italiana vela in ambito di formazione ho visto che diciamo l'ultima campagna olimpica che hai tentato che poi è fallita ma non per colpa tua perché mi stavi preparando per la famosa classe che sarebbe dovuta essere a Parigi di vela d'altura in coppia uomo donna poi diciamo quella classe lì è stata abbandonata prima di quella che classe olimpica hai frequentato? sì, l'ingling era la classe olimpica dove ho fatto la maggiore esperienza con equipaggio appunto femminile composto da tre elementi l'ingling era una barca che inizialmente è nata come propedeutica al soling quindi molto presente al nord Europa, in Italia, in Spagna comunque di veteraneo quasi sconosciuta ma che comunque mi ha dato la possibilità di frequentare i campi di regata delle classi olimpiche seriamente un'altra classe che è diventata poi successivamente olimpica ma all'epoca quando la frequentavo io ancora non lo era ma era molto partecipata, era il match race e poi questa classe come hai accennato tu di offshore doppio misto che sì, c'era quasi il presagio che diventasse olimpica ma poi non ne aveva i requisiti per via dei costi e altri parametri e comunque è diventata una classe di grande interesse e grazie a questo ho potuto partecipare a due regate in giro per l'Italia il nostro rosa tour durante il quale ho avuto la grande fortuna di essere costkeeper di primo uno spagnolo molto famoso Guillermo Altadil e il nostro grande Pietro D'Alia perché è tosto fare una regata insieme a Pietrino sì, 1500 mila, 10 giorni in mare quante parole, scusa perché Pietro conosco bene c'è le sue parole, le mie zero no ma non è un chiaccherone insomma Pietro no 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 però veramente io sono stata veramente onorata di essergli stata al fianco di avere dato il mio contributo, grande contributo comunque eravamo in due e quindi ho imparato tantissimo da Pietro e lo ringrazio tuttora è stato per me un onore essere il suo costkeeper beh uno dei più grandi è stata un'esperienza unica che volevo fortemente fare come? dico Pietro anche se parla poco è uno dei più grandi bimbiisti italiani di questi anni sì, il più eclettico insomma uno dei più eclettici quello con i maggiori talenti trasversali in tutte le discipline importanti dalle Cassi olimpico a America alle navigazioni in solitario sì, è il più eclettico e il più trasversale di tutti uno dei più talentuosi certamente indubbiamente e per cui insomma poi un passo alla volta diciamo se sei entrata nel mondo hai detto prima di monotipi ho visto che sei 70 forse hai fatto anche dell'RS21 se non sbaglio allora sì, nei monotipi l'esperienza più grande che ho scusa per l'esperienza più lunga che ho potuto archiviare quella di 15 anni nella classe nel Magist 32 a prua un ruolo particolare l'unica donna a prua che è l'unica donna a bordo l'unica donna a prua per 15 anni in quella classe per me è un grande traguardo un traguardo silenzioso del quale nessuno si è accorto però per me ha un grandissimo valore vabbè insomma visto dove sei arrivata che proprio nessuno si sia accorto di Irene Bezzi non si può dire no nel senso che diciamo che io mi sono anche mimetizzata abbastanza per riuscire a stare in quella classe perché diciamo le donne insomma è inutile essere far finta di niente non sono desiderate e poi in un ruolo così che richiede requisiti sia intellettivi che di flessibilità che di agilità che di logica che di forza anche come prodiere è veramente strano eppure eppure ce l'ho fatta vabbè pensi che qualcosa si stia muovendo che un po' la presenza delle donne un po' alla volta conquisti più spazio adesso vabbè di pochi giorni fa l'annuncio dell'equipaggio femminile della Women America's Cup dove diciamo una delle temanili sarà Giulia Conti che immagino per percorsi olimpici simili tu conosca molto bene certo e poi vabbè penso sempre alla Federica Salva io diciamo sono veristicamente del lago per cui la conosco la conosco bene insomma un po' alla volta questo spazio sta crescendo Francesca Klapcic che peraltro sarà avversaria di Giulia nella Women's Cup perché adesso il team americano adesso ha lanciato addirittura un recruiting per il suo trimarano di 50 piedi insomma non sono più l'età della pietra per la presenza femminile certo sì in queste in queste nicchie che hai menzionato tu sicuramente qualcosa si sta muovendo sono piccole nicchie ma sono importanti nell'ambito più diciamo dilettantistico prima come hai accennato alla classe j70 sì la presenza femminile è in aumento ma bisogna capire che tipo di presenza è una presenza più di amicizia o perché servono quei 50 chili certo non sono professioniste ecco non ci sono i budget sono cambiati da quando c'era molto più professionismo anche in generale professionismo anche overall cioè quindi maschile comunque sta sta calando quindi la presenza femminile sta aumentando bisogna vedere che forma ha nel senso che tipo di contributo sta dando alla presenza femminile comunque è già importante che la presenza femminile stia aumentando e credo che giochi il ruolo soprattutto giochi un ruolo fondamentale la regola che viene messa in una certa classe per esempio RC44 ci sono le donne perché c'è una regola altri signi equipaggi non la sceglierebbero una donna così come è stato nel primo nella prima edizione del giro del mondo dove c'erano le donne combinate con certi diciamo equilibri di numeri a bordo perché c'era la regola ma gli stessi equipaggi che l'anno precedente hanno proposto la campagna maschili non avrebbero voluto le donne hanno detto chiaramente perché in certi in quello scenario comunque è ritenuto un elemento debole perché comunque c'è in quel scenario la sollecitazione ambientale gli stress ambientali e sociali sono veramente al limite e quindi difficile diciamo che una donna sia diciamo così affidabile per un equipaggio maschile che sostanzialmente è l'equipaggio che fa da leader in tutta la campagna c'è una donna che grazie al fatto di aver partecipato a questo giro del mondo finalmente hanno acquisito quelle competenze che adesso possono rispendere possono riproporsi e fortunatamente adesso possono anche fare un loro percorso con un loro profilo di esperienza e questo è fantastico però sono piccole nicchie diciamo che divergono dalla vela professionistica alla vela dilettantistica certo per esempio diciamo cresce un po' anche il numero delle armatrici soprattutto in queste classi anche questo è un dato importante ovviamente anche le armatrici vogliono vincere e magari si pigliano un professionista certo però non so penso alla Roberta Rossi alla chicca dell'UFO insomma donne diciamo che 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 scelgono questo sport anche diciamo come chiamiamolo investimento crescono sono sempre di più sì è importante che ci sia l'interesse da parte delle delle armatrici donne molte di queste come hai detto tu poi scelgono degli equipaggi prevalentemente maschili perché vogliono vincere e quindi gli uomini hanno più forza più esperienza che è quella la cosa che conta di più perché hanno più esperienza sulla conduzione del mezzo sulla preparazione del mezzo e poi su come eseguire le manovre la gestione della stagione la regolazione delle vele hanno più esperienze in generale gli uomini hanno fatto più regate hanno avuto più occasioni e quindi molte volte le armatrici donne che percepiscono questo a meno che non vogliano fare una campagna che abbia dei valori etici sul femminile allora però diciamo inizialmente si troveranno un po' più in svantaggio soprattutto con certe condizioni ma è una cosa sempre molto molto interessante diciamo sono due piani un po' diversi bisogna sapere qual è l'obiettivo che vuoi percorrere ecco comunque una volta una donna direttrice di un corso di match race non si sarebbe mai vista esattamente infatti i tempi come hai detto tu all'inizio stanno cambiando a piccoli passi ma qualcosa sta cambiando io sono sono una delle testimonianze ecco ecco quindi diciamo raccontaci bene come funziona questo chi partecipa che barche usate come si svolge diciamo quanto dura un corso e come si svolge allora ogni corso dura un weekend sabato e domenica ci sono corsi per principianti e corsi per un livello più avanzato le barche che si useranno sono J22 sono barche per 3-4 persone di equipaggio sono state molto usate sul lago di Garda e anche sul lago Ledro per fare le regate di match race anche di primo grado e anche mondiali sono barche molto adatte per praticare questa disciplina e fare questo tipo di esercizio perché sono barche relativamente lente relativamente veloci cioè non troppo veloci dico io sono barche non troppo veloci che ti consentono di ragionare sul regolamento che viene applicato perché invece essendo un corpo a corpo è sempre molto più basato sul regolamento piuttosto che sulla strategia anche se comunque è sempre una fase una componente importante anche quella quindi è più regolamento e tattica regolamento e tattica e posizionamento rispetto all'avversario in una situazione molto dinamica dove è richiesto per l'equipaggio la disponibilità di impegnarsi su codici di comunicazione efficaci immediati che vengono percepiti immediatamente perché il timoniere deve dare degli input facilmente quindi dei codici di comunicazione facilmente riconoscibili dove c'è una reazione immediata per l'equipaggio sulla manovra sulla regolazione della vela o per avere un effetto anche sul regolamento quindi molto dinamismo tempi stretti dove tanto lavoro a monte deve essere fatto per poter in quel breve tempo mettere in atto quello che si è concordato e acquisito quanti allievi ogni weekend sono previsti come ti dicevo le barche possono imbarcare 3-4 persone per barca quindi se sarà una coppia di barche saranno diciamo 8 persone se saranno due coppie di barche saranno 16 persone uno deve venire diciamo col suo equipaggio o li formate lì quindi anche c'è rotazione dei ruoli sì certamente se ci sarà l'occasione e questo verrà valutato in base al livello dei partecipanti è un metodo che io adotto quasi sempre appunto se c'è l'occasione e secondo del livello dei partecipanti perché la rotazione dei ruoli fa meglio comprendere ad ogni singolo componente dell'equipaggio che cosa deve fare l'altro le problematiche dell'altro e quindi trovare anche quella comunicazione più adatta per quegli input e reazione di cui ti parlavo prima certo giustamente tu hai sottolineato come queste barche questi G22 siano particolarmente adatti perché come hai detto tu sono lente e oggi però diciamo come abbiamo visto nel pinnacolo come dicono gli americani il pinnacle del match race ci sono delle barche che vanno a 50 nodi allora è chiaro che da qualche parte bisogna cominciare come un bambino comincia sull'optimist è giusto che anche uno che impara l'arte del match race lo impari su una barca con le caratteristiche che tu hai raccontato ecco ma come intanto appunto che tipo di allievi vengono giovani meno giovani perché comunque c'è un circuito di match race su quel genere di barche ma non se ne parla molto rispetto appunto alla Coppa America sì perché il circuito di match race ha un po' calato di interesse rispetto a quello che aveva tanti anni fa ti vorrei rispondere alla tua domanda al tipologia di partecipanti ma vorrei anche agganciarmi a quella premessa che avevi fatto oggi si va a 50 nodi per andare a 50 nodi serve una componente strutturale molto importante per la barca perché ricordiamoci sempre che per qualsiasi tipo di navigazione indipendente dal tipo di tipologia di regato o di esercizio che si va a fare è sempre il mezzo che comando su che mezzo devo andare quali vele devo portare e prima devo guardare questa cosa qui sempre per andare a 50 nodi devo avere un mezzo che abbia una struttura che possa permettermi di andare a 50 nodi e per farlo il budget è lievita ok anche solo diciamo il nostro F69 studiato in Italia ok comunque è una barca bellissima barca ma che comunque ha dei costi alti è una barca tutta in carbonio eccetera quindi per potersi avvicinare a questa disciplina anche con costi e budget diciamo che si possono diciamo praticare affrontabili affrontabili per un pubblico un po' più insomma che ha una disponibilità di un solo weekend o anche solo due weekend insomma il J22 è una barca simile cioè dà la possibilità a molti di approcciarsi a questa disciplina o questo tipo di esercizio come dicevi per andare a 50 nodi ma anche soltanto a 20 nodi di Bolina stiamo parlando di budget che vanno moltiplicati con diversi zeri perché i costi di manutenzione di una barca fanno sempre la grande differenza anche del costo di organizzazione di un corso abbiamo una barca da gestire quindi se la barca ha un costo contenuto possiamo offrire dei corsi abbordabili come hai detto tu se la barca ha un costo elevato bisogna rivedere un po' cioè non è per tutti bisogna fare un'altra tipologia e poi comunque andare così veloci per andare così veloci bisogna anche avere una formazione un'educazione riguardo a questa disciplina già ben strutturata una cosa poi torniamo sul tema delle barche veloci una cosa importante per chi fa del match race appunto che lo fai a sette nodi o a cinquanta nodi sono i regolamenti poi come ben sappiamo ci sono dei regolamenti adattati alla alla velocità non so se ti sei visto recentemente su facebook c'è stato un dibattito su una decisione durante il 6GP peraltro una questione diciamo di interno in buo più o meno che aveva come dire segnalato Roberto Benamati a cui poi ha risposto Ganga Bruni spiegando che in quelle regate lì il regolamento proprio per la velocità è un po' diverso ma al di là di questo inciso che ho fatto io quindi diciamo in questa weekend oltre diciamo a sfidarsi sulle acque nel match race c'è spazio per studiare bene i regolamenti sì scusami ho perso qualche parola della tua domanda ti chiedo di ripeterla hai detto c'è spazio sui regolamenti sì ci sono c'è un ragazzino che va al corso di vela sull'optimist gli insegnano la teoria e la pratica nel match race la teoria conta molto perché i regolamenti sono fondamentali quindi nell'academy nel weekend che spazio ha lo studio del regolamento di regata del match race sì ha lo spazio opportuno per poter fare quegli esercizi necessari per mettere in pratica quelle regole fondamentali che caratterizzano il match race come per esempio la partenza le aree di zona della partenza la partenza è una delle fasi più importanti anche nelle regate di flotte ovviamente ma nel match race si caratterizza con tanti aspetti differenti proprio perché c'è il corpo a corpo non per esempio una delle differenze che caratterizza la sparenza di match race è che non serve partire allo start ma serve partire davanti all'avversario puoi anche partire un minuto dopo ma l'importante davanti all'avversario perché non hai altri avversari che possono scappare in avanti ed è una diciamo questa questa caratteristica ti può servire per esempio per imparare a gestire meglio la medal race che è la regata delle medaglie che si fa all'ultimo giorno nelle classi olimpiche quindi esercitarsi in un match race ti può servire per usare quell'abilità nella medal race e se le barche sono lente rispetto a un 470 un 49er meglio ti danno ancora più la possibilità di capire quel regolamento che si applica e di pensare di più alla strategia di partenza e poi dopo che dopo poi tu potrai applicare nella tua barca 470 49er onacra con più in una dinamica più veloce però l'hai acquisita prima con più con dei tempi più calmi più lenti ed è una progressione didattica importante ma questo vuol dire che potresti avere tra gli allievi qualche equipaggio italiano che si prepara per le olimpiadi c'è una cosa molto interessante questo che hai fatto parlare con Marchesini o forse ne avete già parlato certamente non ne abbiamo parlato ancora con Michele Marchesini il direttore della federazione italiana vela direttore tecnico ma potrebbe essere potrebbe essere un campo di allenamento proprio su queste specifiche di cui ho parlato e non solo proprio in virtù della preparazione necessaria proprio per la medal race certo speriamo che ci ascolti tra l'altro ho citato prima Ganga Bruni e non so se ti è sfuggito o non ti è sfuggito ovviamente io faccio sempre un post annunciando l'intervista del lunedì e tra i commenti di questo post c'era un applauso per te da parte di Ganga Bruni e quindi grazie grazie sono onorata sono onorata da parte di Gabriele ricevere mi sembra un bel endorsement ecco di cui puoi mettere una medaglia sulla sì sì sicuramente ti ringrazio per avermelo ricordato perché l'ho notata andrò subito a vedere mi sono molto piacere lo ritrovi diciamo andando verso la conclusione ritorniamo a parlare del match race ad alte velocità tanti dicono che non è più cioè che che non c'è più il match race perché vanno troppo veloci perché fanno meno manovre allora ero curioso un po' di sapere la tua opinione sicuramente con i catamarani nel 13 e anche nel 17 c'è stato meno corpo a corpo ma già nella Coppa America del 21 nelle legate degli AC40 insomma comunque ci mettono 5 minuti a fare un lato però magari fa 6 virate insomma che sono tante certo sì una volta le manovre erano molti di più e di diversa tipologia adesso parliamo solo di virate anche in poppa sono praticamente virate anche in poppa il vento non capisce se vanno di poppa no il vento viene sempre dal davanti da quanto vanno come lo voci certo una volta cioè col match race tradizionale come dicevo prima con le barche meno veloci si poteva fare la differenza anche proprio sull'abilità di eseguire una manovra e le manovre erano insomma un carnet un bouquet di manovre insomma c'era da scegliere anche la stessa situazione poteva essere risolta in un modo o nell'altro e poteva caratterizzare gli equipaggi oggi è così sì insomma solo due match race diversi entrambi interessanti e come dicevo prima per andare a 50 nodi insomma riassumento non è per tutti ecco chi si vuole divertire può venire a fare il match race con noi quello sarà porta aperte per tutti perché è appunto affrontabile per per tutti i budget per tutte le tasche certo ma ti piacerebbe fare un match race su una C40? sì sicuramente prima di fare un match race dovrei allenarmi alla velocità capire come funziona la velocità abituare il mio corpo e la mia mente a quel tipo di sollecitazione è importante prima diciamo prendere confidenza del luogo sul quale sei e come si muove la dinamica la meccanica prima quello sì come su tutte le barche ma quello in modo particolare è proprio molto molto atipico ecco vabbè d'altronde tu comunque esperienza con i 69F un po' ce l'hai e comunque le ragazze della C40 di Luna Rossa si sono formate lì per cui si sono formate a 25 nodi per poi poter andare a 50 il futuro degli AC40 potrebbe essere quello appunto aperto ai private owner agli armatori per cui dello spazio potrebbe esserci certamente sono molto molto contenta per queste ragazze veramente sono piena di affetto nei loro confronti e forse le ragazze ma anche i giovani anche i giovani hanno veramente un'opportunità sono veramente contenta per loro sì mi seguirò con grande affetto mi sembra giusto hai dei punti di riferimento non so dei miti nella vela qualcuno che da cui hai tratto ispirazione in questi anni sì sì ne ho diversi ti chiedo solo un secondo che devo attaccare la corrente se no mi dice tutto sì allora ne ho diversi di miti sono tutti italiani uno è il grandissimo Claudio Celon che sta dall'altra parte del lago il ciccio Claudio Celon è la persona da cui dal punto di vista sulla regolazione delle vele e la conduzione ho imparato di più perché Claudio è molto umano ha un aspetto umano che non ti aspetti non è il classico velista professionista è lui è un montanaro e quindi ha delle priorità che non ti aspetti ed è estremamente preciso è estremamente è molto esperto e ha un modo di approcciare la la conduzione la regolazione delle vele veramente personalizzato e e poi un'altra persona dalla quale ho imparato tantissimo è sulla preparazione della barca come ti dicevo all'inizio la preparazione della barca è importantissima è fondamentale cioè siamo su un mezzo che si muove un mezzo meccanico ed è la prima cosa la preparazione della barca prima per la sicurezza e poi per la performance e quindi in questo campo la persona che per me è un mito è Sergio Blosi prodiere e preparatore di barca in modo eccezionale è una persona con la quale ho anche condiviso la mia vita però diciamo oltre a aver condiviso la vita con lui come velista lo ritengo mitico lui e Claudio ce l'ho e poi per andare un po' all'estero Paul Cagliar che è una persona che umanamente come team manager è una persona che ho apprezzato prima dal punto di vista umano quando ho avuto la grande fortuna di essere in un suo team con il J70 è una persona che ha un grande capacità di ascolto cosa rara nei velisti cosa molto rara perché sono quasi tutti egoriferiti e quindi non hanno voglia di fare non ci riconosci bene come? dico riconosci bene i velisti mi sembra riconosco molto bene sono quasi tutti Diego e riferiti quindi raramente trovi qualcuno che ha voglia di ascoltare mentre invece Paul Cagliar ha una grande capacità di ascolto voglia di ascolto e ha grande voglia di imparare dagli altri non è mai arrivato ha sempre voglia di imparare e quindi in questo l'ho rispettato e apprezzato prima dal punto di vista umano che velico tecnico quello lo davo quasi per scontato mentre vedete dal punto di vista umano è stata proprio una sorpresa bene ti ringrazio mi accomuno diciamo ai saluti al ciccio comunque ho quando non voglio dire quanti anni fa comunque più di 40 anzi forse 45 facevamo le regate in quattro stante insieme loro sicuramente lui e Mario erano molto più bravi di me e mio fratello e la cosa che era sempre colpiva una capacità di gestire il vento forte incredibile un equipaggio veramente da vento forte che poi magari alla fine è stato un po' il limite poi Mario ha scelto un'altra strada nella vita e invece ciccio è rimasto legato alla vera quindi mi unisco ai saluti al ciccio un grande Grene grazie un abbraccio un abbraccio forte grazie a presto ciao 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 grazie a presto